Hanno trovato una situazione non tanto carina e sta dicendo pallotole in giro, non c'è sicurezza, non c'è pace. Quando avete capito che dal Libano c'era la possibilità di scappare per raggiungere terre più tranquille? L'anno scorso tramite una signora ha conosciuto la comunità Sant'Eligidio e le ha raccontato che c'è la possibilità di salvare i suoi figli, di andare fuori e di avere un ricongiungimento con l'altro figlio.